Questo è per te, amico! Vai! Ecco cosa faccio adesso. Buso la sua porta, poi prendo la trombetta e comincio a suonare l'hino nazionale. Se non mi apre la porta, allora entro in casa sua. E' stato facile, vabbè. Adesso sono dentro, sono la canzongina, eccola qua. Eccola, allò, sì, allò, allò. Forse è meglio se esco da qui, eh. Che è meglio. No. No, secondo me deve... Eh, no. No, no, forse ha capito che... Eh, allò, allò, allò. Eh, non riesco più a uscire. Eh, vai ad aprirmi la porta che fai prima. Ha capito, ha capito. Eh, vabbè. Thank you! Thanks! Eh, devo ammetterla. Ha una bella casa, tutta in legno, vabbè. Eh. Però ce lo facciamo noi un po' di legno per lui, eh. Eh, eh, eh. Il scherzetto del legno. Ecco, adesso vado dal... Cosa sta dicendo? Cosa? What? What? Non lo capisco! Ehm, ok. Ha aperto la porta. E quindi... Hey, bro! Take! 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 Hey! Reinstallate! Yes! Yes! Take! Come no? Ah, ma non la vuole, non la vuole, no? Eh, vabbè, eh. Non me ne faccio nulla, io, eh. Intanto... Boh... Vabbè. Vabbè, io me ne vado. Però ha sempre una bella casa, il sole che splende sulla sua villa, eh. Vabbè. Oh! Ammazza, l'elicottero che va in fiamme, oh. Mamma mia, quante case qua, oh. Tutte lì. Sono anche già abitato. Lui è l'unico che abita ancora qua, eh. Doveva essere solamente un benchmark, ma si è trasformato in un rompipalle del vicino, vabbè. Eh, vabbè, ho voluto fare questo video apposta, così. Eh, vabbè. Che dire, ragazzi? Se vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi al canale. Ah, eccolo. Sta costruendo, sta là sopra. Hello! L'inno italiano ha un greco! Ciao!